80.000 multe con un aumento rispetto ad un anno fa che sfiora il 5%, gli aretini sono particolarmente indisciplinati con la ZTL che diventa di gran lunga il primo reato della strada, il più frequente con sanzioni aumentate del 10% che salgono così a quota 33.000. Questi alcuni dei dati dell'attività dell'ultimo anno della Polizia Locale di Arezzo, resi noti in occasione delle celebrazioni del Patrono San Sebastiano che si sono svolte nel cuore della città. È la giornata del nostro Santo Patrono, però è anche un momento nel quale noi ci sentiamo tutti amalgamati per poter anche valutare il nostro lavoro, le nostre potenzialità anche assieme alle altre autorità cittadine che sono tutte presenti come avete visto e quindi come dire fare una valutazione proprio del nostro operato quotidiano. Un giorno di festa dunque per il corpo iniziato con la Santa Messa nella pieve di Santa Maria ma che come sempre è stato anche l'occasione per tracciare un bilancio. È un bilancio oserei dire positivo perché abbiamo nella totalità ancora aumentato il lavoro rispetto già al 2018 che era già stato un anno nel quale come sapete avevamo toccato dei picchi che non erano mai stati raggiunti dalla Polizia Municipale di Arezzo. Però sicuramente questo corpo avrebbe bisogno di una stabilità di personale che nel 2019 non c'è stata a causa pensionamenti, a causa di mobilità, a causa di questioni che hanno riguardato proprio anche il funzionamento stesso del corpo. Dunque aumentano le multe per ZTL, divieto di sosta, mancato aggancio della cintura di sicurezza ed infine per chi si dimentica la revisione dell'auto. Calano invece le sanzioni per eccesso di velocità che scendono da 8.000 a meno di 7.000 e a sorpresa le multe per l'uso del cellulare al volante.